Nel 1926 Giorgio Ascarelli, industriale ebreo napoletano, fu il principale promotore dell'Associazione Calcio Napoli, di cui divenne anche presidente. Finanziò la costruzione di uno stadio nei pressi della stazione centrale, che dopo la sua morte gli venne intitolato. Ma quando nel 1934 l'impianto fu scelto per disputare alcune partite dei mondiali di calcio, gli organizzatori ritennero inopportuno far giocare la Germania di Hitler in uno spazio dedicato a un ebreo e lo ribattezzarono semplicemente Stadio Partenopeo. Otto anni dopo l'edificio fu distrutto dai bombardamenti alleati. Adesso un gesto per ricucire la memoria. Il 17 novembre il sindaco dei Magistris e l'assessore allo sport Tomasielli hanno intitolato a Giorgio Ascarelli lo stadio comunale di Ponticelli, in una cerimonia che ha ricordato anche l'ex sindaco di Napoli Maurizio Valenzi, autore nel 1938 di un saggio sugli ebrei italiani di fronte al razzismo. A corredo dell'iniziativa una mostra fotografica al maschio angioino sulla storia del calcio Napoli a partire dalla fondazione.